buongiorno compagni di via eccoci al settimo video del dei primi passi verso il purna yoga di sri aurobindo e di mer il settimo video e mi piace il numero 7 lo trovo molto opportuno questo numero tratta dell'essere psichico è un argomento a mio avviso fondamentale di tutto il purna yoga di tutto lo yoga integrale di sri aurobindo ma non è soltanto un argomento l'essere psichico è il fulcro del nostro viaggio spirituale e in questo video cercherò di parlare il meno possibile a livello personale perché per un argomento così importante quindi che cos'è l'anima che cos'è l'essere psichico che cos'è lo spirito le mie parole sarebbero del tutto inappropriate anche perché preferisco ispirarmi alla esperienza e alle esperienze dirette di sri aurobindo e della madre quindi di due esseri illuminati come ho detto in altri video di un avatar che si esprime in due esseri sri aurobindo e la madre e quindi le mie opinioni personali sono e sarebbero misere potrei fare dei discorsi di cultura ma nella via spirituale la cultura non c'entra l'erudizione non c'entra nella via spirituale conta soltanto l'esperienza diretta e personale e quindi per quanto mi riguarda quello che vorrei trasmettervi è che noi siamo una matrice spirituale la nostra identità vera è un'entità divina è un essere divino che anima tutta la nostra personalità che anima proprio l'essere umano questo centro luminoso questa goccia divina è sicuramente il vero inizio di una via spirituale diventarne coscienti cominciare a sperimentarlo a viverlo è il vero autentico inizio direi di qualsiasi via spirituale nobile sacra e che non sia una presa in giro per noi stessi il nostro essere psichico poi lo comprenderemo meglio attraverso le parole di scemo rubino e mer e quindi direi la nostra anima nella suo aspetto più spirituale è il maestro di tutto il cammino è la nostra goccia divina che prende in mano la nostra personalità per fortuna ed è la nostra goccia divina che si connette e si collega all'oceano divino in cui siamo immersi di cui facciamo parte e che sottende ogni aspetto di noi stessi non dobbiamo mai dimenticarci che qualsiasi espressione del nostro corpo il corpo fisico la sua energia il prana o il corpo eterico tutta la parte emozionale il corpo astrale o vitale come dice sri aurobindo e mer la nostra mente nei suoi vari livelli sono espressioni tutte del divino è un libro di riferimento è un libro anch'esso di difficile ritrovamento ma come vi ho detto bisogna insistere e sicuramente riuscirete a trovarlo questo è il riferimento che vi porto l'essere psichico la persona segreta ed è una selezione dalle opere di sri aurobindo e mer voglio partire da un'introduzione di Maggi e di Surakshita che risale al novembre 2001 a Pondisceri in cui viene detto l'emergere dell'essere psichico è sempre accompagnato da un senso di liberazione come la liberazione da una prigione e la qualità diciamo proprio la frequenza dello psichico è l'adorazione e la gratitudine è proprio veramente la qualità innata della nostra goccia divina quando lo psichico affiora riuscendo a perforare gli stati fisici mentali ed emotivi ordinari molte volte solo una cosa ci rimane da fare è possibile fare piangere versare quelle lacrime inspiegabili che è il riconoscimento della verità del nostro essere desidero confermare questa esperienza che viene descritta qui quando si è in contatto con la nostra anima con l'essere psichico una commozione profonda improvvisa certe volte squarcia il petto a volte è dolcissima a volte è quasi insopportabile nello yoga di Shri Aurobindo e di Mer la trasformazione psichica è una prima necessità altre esperienze ed altre visioni possono arricchire la coscienza ma non purificano la natura la lasciano generalmente come era prima dell'esperienza soltanto la trasformazione psichica cambia la natura e gli strumenti principali per questa trasformazione sono bhakti devozione e il surrender e il dono di sé l'offerta di sé al divino è l'essere psichico stesso che maturando di vita in vita alla fine si immaterializzerà nella sostanza del prossimo corpo supermentale quindi la nostra anima farà da ponte alla nuova coscienza che sta per manifestarsi negli esseri umani ma andiamo adesso direttamente a quello che dice Sri Aurobindo sull'essere psichico l'anima desiderio mentalizzata che è una creazione dell'impulso vitale dell'uomo spesso è confusa con la vera anima la vera anima è una scintilla del fuoco divino una parte del divino dal momento che l'anima l'essere psichico usa la mente e il vitale tanto quanto il corpo come strumento per crescere e fare esperienza quindi dice Sri Aurobindo molti confondono l'anima con i suoi involucri quindi il corpo del desiderio il corpo astrale delle emozioni o anche il corpo mentale ma l'anima è una scintilla divina e aggiunge ancora Sri Aurobindo l'anima in sé è una divinità interiore più grande della mente del vitale o del corpo è qualcosa che una volta che i suoi strumenti lo liberano dall'offuscamento immediatamente crea un diretto contatto con il divino e con lo spirito è una porzione del divino che permane di vita in vita portando le esperienze della vita attraverso i suoi strumenti esteriori che sono il nostro corpo le nostre emozioni e la nostra mente col crescere di questa esperienza essa quindi l'anima manifesta una personalità in sviluppo che insistendo sempre sul buono sul vero e sul bello infine diviene pronta e abbastanza forte per dirigere la natura verso il divino l'anima ovvero il purusha individuale impone le sue ingiunzioni alla natura la natura umana continua Sri Aurobindo la parte psichica di noi è qualcosa che viene direttamente dal divino è il contatto col divino questo elemento divino c'è in tutti gli esseri viventi ma ecco ascoltate attentamente ma sta nascosto dietro la coscienza ordinaria non è sviluppato al principio e anche se lo è non è sempre o spesso in primo piano esprime se stesso quel tanto che l'imperfezione degli strumenti lo permette con i loro mezzi e con i loro limiti cresce nella coscienza facendo esperienza verso Dio guadagnando forza ogni volta che c'è un movimento superiore in noi e infine con l'accumulazione di questi movimenti più profondi e più elevati si sviluppa una individualità psichica ciò che noi chiamiamo solitamente l'essere psichico quindi l'anima che comunque è una particella divina sviluppa gradualmente l'essere psichico l'essere psichico è nell'evoluzione dell'anima la sua individualità anche l'anima acquista gradualmente una sua individualità da non confondere assolutamente con il nostro ego non ha nulla a che fare tutto ciò con il nostro corpo con le nostre emozioni con la nostra mente che sono la struttura ecco non creiamo mai questa confusione la nostra personalità cessa di esistere quando moriamo ma questa scintilla divina continua avendo raccolto le esperienze fondamentali della vita in cui si è incarnata è sempre questo essere psichico che è la reale sebbene abbastanza spesso segreta causa del fatto che l'uomo si volga verso la vita spirituale ed è anche il suo più grande aiuto in essa quindi quando nasce in noi un'aspirazione spirituale e questa aspirazione ci porta negli anni sempre di più in questa direzione è perché sta emergendo l'impulso potente del nostro essere psichico ovvero della nostra anima che però sta prendendo sempre più coscienza di sé spesso viene inteso come anima l'essere vitale del desiderio dice Sceo Robindo ovvero la falsa anima o anima desiderio anziché la vera anima che è l'essere psichico l'essere psichico è ben diverso dalla mente o dal vitale ricordiamoci che il vitale è l'astrale il corpo astrale in un altro linguaggio sta dietro di loro l'essere psichico e si incontrano nel cuore questo è molto importante nel cuore il suo sito centrale è là ma dietro al cuore piuttosto che nel cuore poiché ciò che gli uomini di solito chiamano cuore è la sede dell'emozione e le emozioni umane sono impulsi mentali vitali e non psichici intendendo sempre ormai per psichico il nostro nucleo spirituale il potere dello psichico comunque può agire sulla mente sul vitale e sul corpo purificare pensiero percezione ed emozione che allora diventa sentire psichico l'essere psichico può venire descritto nella lingua indiana come purusha nel cuore o chatia purusha ma ci si riferisce al cuore interiore o segreto non al centro vitale emozionale esteriore mentre invece quando nell'essere umano la mente dice Shreo Rubindo e il vitale predominano l'esperienza potrebbe essere detta psicologica e non psichica psicologica ed è superficiale adesso vi leggo quello che dice Mer nell'agenda di cui parlerò in un altro video l'agenda di Mer della madre l'anima e l'essere psichico non sono esattamente la stessa cosa sebbene la loro essenza sia la stessa l'anima è la scintilla divina che dimora al centro di ogni essere è identica alla divina origine è il divino nell'uomo quindi questa è l'anima l'essere psichico qui dovete fare molta attenzione prende forma progressivamente intorno all'anima ovvero a questo centro divino nel corso delle sue innumerevoli vite nell'evoluzione terrestre finché arriva il momento in cui l'essere psichico pienamente formato e interamente risvegliato diventa l'involucro cosciente dell'anima attorno a cui a cui è formato l'anima continua è l'essenza eterna al centro dell'essere psichico l'anima è di fatto una scintilla divina che si riveste di molti stati dell'essere di densità crescente giù fino al più materiale quando l'essere psichico è pienamente formato è consapevole della coscienza dell'anima e la manifesta perfettamente quindi l'anima è una scintilla divina ma non tutti hanno un'anima cosciente e attraverso numerose incarnazioni che l'anima piano piano sviluppa un essere psichico che comunque è della stessa sostanza dell'anima e questo essere psichico è la consapevolezza dell'anima quindi sia l'anima che l'essere psichico sono comunque divini l'essere psichico non ha bisogno di essere salvato questo è molto importante quando si parla di mal d'anima salvare l'anima non stiamo parlando di quello che per anima intende Sera Rubindo e Mer perché l'anima è comunque una particella divina spirituale anche anche se non ha sviluppato una sua consapevolezza che è l'essere psichico comunque l'anima è divina quello che viene inquinato è il corpo astrale il corpo mentale che sono gli involucri dell'anima è ben possibile dice Sera Rubindo avere un essere vitale e fisico senza un essere psichico chiaramente evoluto dietro di esso l'essere interiore invece è composto di mentale interiore vitale interiore fisico interiore ma questo non è l'essere psichico l'anima di una pianta o di un animale non è totalmente dormiente solamente i suoi modi di esprimersi sono meno sviluppati che quelli di un essere umano comunque gli animali hanno un'anima e possono rispondere molto prontamente allo psichico nell'uomo la parte vitale di noi normalmente esiste per qualche tempo dopo la dissoluzione del corpo dice Sera Rubindo e anche per il mentale vale la stessa cosa perché questi sono involucri dell'anima l'anima è qualcosa che scende nella nascita e passa attraverso la morte sebbene essa stessa non muoia perché è immortale dice Sera Rubindo essa procede in questa progressione di vita di vita in vita attraverso un'evoluzione che la conduce allo stato umano ed evolve attraverso di essa un essere che chiamiamo l'essere psichico che sostiene l'evoluzione sviluppa una coscienza umana fisica una vitale e una mentale come suoi strumenti come suoi strumenti di esperienza nel mondo ma viene un momento in cui è capace l'anima di prepararsi a venire fuori da dietro il velo a svelarsi questo è l'inizio della vera vita spirituale quando l'anima comincia ad emergere perché evidentemente sta sviluppando un essere psichico quindi una sua individualità e lentamente la percezione della nostra identità passa dalla struttura della nostra personalità a una percezione interiore più profonda alla percezione del nostro sé interiore che è l'essere psichico l'essere psichico è una forma cosciente dell'anima che cresce nell'evoluzione questo è sempre Sri Aurobindo che parla l'anima o essere psichico è immutabile solo nel senso che contiene tutte le possibilità del divino dentro di sé ma deve evolverle e nella sua evoluzione assume la forma di un individuo psichico lo psichico sta dietro la sua sede è dietro il cuore il suo potere non è conoscenza ma un sentire essenziale o spirituale che è la percezione psichica la sua azione su di noi sulla nostra parte strutturale la sua azione diretta diventa normale e preponderante solo ad un alto livello di sviluppo individuale l'anima ancora Sri Aurobindo è una scintilla del divino che non risiede al di sopra dell'essere manifesto ma discende nella manifestazione per sostenere la sua evoluzione nel mondo materiale l'essere psichico è formato dall'anima nella sua evoluzione in un primo tempo l'essere psichico è velato dalla mente dal vitale e dal corpo ma crescendo diventa capace di farsi avanti e dominare la mente la vita del corpo quando l'essere psichico può con la sadana quindi con la nostra disciplina interiore diventare dominante e usare liberamente i suoi strumenti allora l'impulso verso il divino diviene completo e la trasformazione della mente del vitale e del corpo non solo lo liberano ma tutto diventa possibile c'è moltissimo da dire in questo libro possiamo trovare veramente un condensato di conoscenza però torno a dirvi scendiamo al nostro livello perciò che è possibile il nostro livello è un livello mediocre anche se è sincero e magari ammantato anche da una certa umiltà che è fondamentale nella via spirituale e al nostro livello quello che noi possiamo fare è cominciare sempre di più a concentrarci su questa parte profonda di noi stessi in questa concentrazione anche attraverso la pratica meditativa ci sono anche altri strumenti fondamentali che sono la devozione il surrender l'offerta di sé e anche qualcosa che non viene detto quasi mai ma che è fondamentale nella via spirituale compiere azioni di bene agire agire per il bene praticamente quanto più è possibile ogni giorno compiere azioni di bene questo apre il cuore questo arricchisce l'energia del nostro cuore stimola il nostro essere psichico lo fa emergere ancora di più lo mette ancora di più in evidenza e poi c'è anche lo strumento del mantra il mantra di mer della madre ma di questo ne parleremo in un altro video adesso vi auguro ogni bene